Ho voglia di giocare, di fare bene, anche se con gli Achimi poi avevo cominciato un'altra volta a rigiocare, è il mio ruolo, però avevo bisogno di altri stimoli, sia miei e sia di chi mi prendeva, perché noi giocatori viviamo sull'entusiasmo, è inutile a nascondercelo, però negli anni con un po' di esperienza ho capito che comunque bisogna pure prendere il positivo nei momenti difficili. La squadra è una società che ti stima, a prescindere se è prima in classifica o quarta in classifica, è un attestato di stima e quindi è un motivo anche di felicità, perché comunque anche se in quel momento a Siena non stavo giocando, è comunque a piacere. Ho subito preso in considerazione insieme al mio avvocato Paolo Rodella e insieme a mia moglie e ai miei figli di prendere una decisione non frettolosa, ma non per Pescara, perché sapevo che magari poteva dare incontro a delle difficoltà inerenti al Siena. Penso che ogni squadra ci abbia i suoi problemi, vedo anche le grandi squadre fatte di campioni che hanno i loro problemi, è una squadra che ci dobbiamo salvare, quindi si sa. Però li ho visti anche domenica, i miei nuovi compagni, anche se non è stata una partita esaltante, però comunque non ha perso l'identità. Ho visto un pubblico che per 90 minuti li ha incitati, ho visto una curva focosa e onestamente questo mi mancava un po'. Da due anni a questa parte mi mancava, mi esalto di più giocare davanti alla difesa da regista, però ho sempre detto che comunque sia le esigenze del mister vanno sempre rispettate perché siamo professionisti e quindi se dovessi cambiare il ruolo per una partita o schierarmi in un'altra decide sempre lui. Quindi alla fine l'obiettivo unico è quello della salvezza. Se io non sono andato in una grande squadra sicuramente ho avuto le mie colpe, però di certo l'anno migliore di Udine dove ho fatto 11 gol, dove tutti ne parlavano, dove ero quasi in procinto di andare a Juve al Real, se non ho messo la firma, quello non dipendeva da me. Se il gruppo decide, se il branco decide che il D'Agostino deve essere il leader, io sono pronto. Però io posso mettere a disposizione le mie qualità, la mia esperienza, il mio entusiasmo, le mie doti. Il leader mi sento di poterlo diventare, però comunque è sempre il gruppo che decide. Ho dato la mia vita, in un momento molto particolare della mia vita, Uve, Real, Juve, chi ne ha più una metta, avevo perso un po' la strada. Non è che me drogavo, assolutamente no. Però avevo perso un po' la strada perché non riuscivo a trovare un equilibrio, anche in famiglia, comunque la nostra vita il calciatore è portato a 35 anni e finisce. E se tu, io mi domandavo a fine carriera cosa farò, è già entravo in confusione. Ci ho pensato Dio perché poi ho conosciuto Gesù tramite Nicola e Grottaie. Mi reputo io un figlio di Dio a 360 gradi.